Nel cuore pulsante delle vicende di Terra Amara, un nuovo inquietante capitolo tiene con il fiato sospeso gli appassionati della serie. Abdul Qadir ha rapito Demir, seminando scompiglio e incertezze tra i protagonisti. La tensione è palpabile, mentre il destino di Demir pende da un filo, avvolto nelle ombre di un intrigo che si infittisce. La confessione di Abdul Qadir a Vahib sul luogo dove ha nascosto Demir rappresenta una svolta drammatica che potrebbe ribaltare ghili equilibri già precari all'interno della narrazione. Vahib, messo di fronte a una verità tanto sconcertante quanto inattesa, si trova ora a dover prendere decisioni cruciali che potrebbero influenzare profondamente il corso degli eventi. La decisione di Abdul Qadir di rapire Demir non è solo un atto di forza bruta, ma una mossa calcolata che svela le complessità dei legami e delle rivalità che pulsano sotto la superficie di Terra Amara. Il gesto estremo di Abdul Qadir apre nuovi interrogativi sulla sua agenda e sulle sue vere intenzioni, gettando una luce sinistra sui conflitti che animano la serie. La rivelazione del nascondiglio di Demir a Vahib potrebbe segnare l'inizio di una corsa contro il tempo per salvare Demir e sventare i piani di Abdul Qadir. Vahib, con questa informazione in mano, si trova davanti a una scelta difficile, agire in solitaria per tentare un audace salvataggio o condividere la cruciale informazione con gli altri personaggi, rischiando di innescare conseguenze imprevedibili. Mentre gli spettatori attendono con trepidazione i prossimi sviluppi, la domanda che aleggia è «Riuscirà Vahib a salvare Demir dalle grinfie di Abdul Qadir? E quali saranno le ripercussioni di questo audace colpo di scena sulle dinamiche già complesse di Terra Amara?». Questo nuovo capitolo aggiunge ulteriore profondità a una trama già ricca di colpi di scena, promettendo sviluppi ancora più emozionanti e imprevedibili. Gli spettatori rimangono in attesa, sperando che la giustizia possa prevalere in un mondo dove il confine tra bene e male si fa sempre più labile. Nell'ultimo episodio di Terra Amara, il pubblico è stato testimone di un colpo di scena che ha cambiato le carte in tavola nella lotta per il potere che infuria tra i personaggi chiave della serie. Abdul Qadir, in una mossa audace e calcolata, ha rivelato a Vahab il nascondiglio di Demir, svelando così un piano di ricatto che potrebbe avere conseguenze devastanti per Hakan. Il piano di Abdul Qadir non è solo un semplice atto di tradimento, ma una strategia ben orchestrata che mira a destabilizzare gli equilibri di potere all'interno della narrazione. Con questa rivelazione, Abdul Qadir si posiziona come un burattinaio che, tirando le giuste corde, può manipolare gli eventi a suo favore, mettendo Hakan in una posizione vulnerabile. La scoperta del rifugio di Demir, che è venuta a conoscenza di Vahab, porta con sé un'ondata di suspense e dubbi che si insinuano nella trama di Terra Amara, come un vento freddo che preannuncia la tempesta. Immagina Vahab, lì, con questa bomba di informazione tra le mani, a rimuginare sul da farsi. Da un lato ha il potere di scatenare un vero e proprio caos, dall'altro l'opzione di custodire il segreto come un tesoro nascosto. Vahab si ritrova, suo malgrado, l'ago della bilancia su cui penderanno le sorti di molti. Ogni suo passo, ogni decisione, anche la più minima, potrebbe avere ripercussioni immense. È come se avesse tra le mani il filo di una trama complessa e a lui spetta la decisione di tirarlo e vedere quale parte del tessuto si sgretola o lasciarlo lì, intatto, al rischio che qualcun altro lo scopra e lo strappi via. E poi c'è il dilemma morale che grava sulle sue spalle. È giusto usare queste informazioni per influenzare il corso degli eventi? È lecito tenere per sé un segreto così pesante? Queste domande si rincorrono nella mente di Vahab, creando un tumulto interiore che rispecchia la tempesta esterna che sta per abbattersi sulla narrazione di Terra Amara. L'incertezza di Vahab riflette quella degli spettatori, tenuti in sospeso da queste rivelazioni. Ognuno si chiede, cosa farà Vahab? La tensione è palpabile, si taglia con il coltello. La decisione di Vahab non solo determinerà il destino di Demir, ma potrebbe anche riscrivere le alleanze e le dinamiche di potere che si sono stabilite fino ad ora. È un momento cruciale, un bivio che potrebbe portare a conseguenze inimmaginabili. In questo intricato gioco di scacchi umano, Vahab si trova a dover fare una mossa che potrebbe cambiare per sempre il corso della storia di Terra Amara. La pressione è alta, gli occhi sono puntati su di lui e il tempo scorre inesorabile. La suspense è al culmine e tutti attendono con il fiato sospeso la prossima mossa. Questo sviluppo apre la porta a una serie di domande. Come reagirà Haqqan di fronte al ricatto di Abdul Qadir? Quali saranno le conseguenze per Demir ora che il suo nascondiglio è noto? E come influenzerà questo gilli gli equilibri e le alleanze tra i personaggi? L'ingegnosità e la strategia dietro le mosse di Abdul Qadir in Terra Amara non sono solo una dimostrazione della sua astuzia, ma anche un simbolo della profondità e della complessità delle relazioni e delle trame intrecciate che formano il tessuto della serie. Ogni sua azione, calcolata e ponderata, rispecchia una profonda comprensione dei meccanismi di potere e delle dinamiche umane che animano il mondo di Terra Amara. È come se Abdul Qadir giocasse a scacchi, muovendo le pedine con precisione, anticipando le mosse degli avversari e cercando di mantenere sempre un passo avanti. Per gli spettatori questa non è solo una narrazione intrigante, ma un vero e proprio enigma da risolvere. L'attesa per vedere l'effetto delle azioni di Abdul Qadir sul destino degli altri personaggi e sul corso degli eventi è carica di suspense. C'è una curiosità palpabile nell'aria, un desiderio collettivo di comprendere le ramificazioni di queste scelte audaci. Come influenzeranno le relazioni già attese tra i personaggi? Quali alleanze si formeranno o si spezzeranno a seguito di queste rivelazioni? E soprattutto, quale sarà l'impatto sul futuro della trama, così densa di segreti, bugie e desideri inconfessati. In terra amara, ogni mossa di Abdul Qadir è come un sasso gettato in uno stagno, i cui cerchi si allargano influenzando tutto ciò che li circonda. La trama si evolve in maniera sempre più complessa, come un intricato puzzle che ghilli spettatori sono desiderosi di comporre. La tensione sale ad ogni episodio, con la promessa di svolte imprevedibili e di momenti carichi di emozione. In questo contesto, ghilli spettatori non sono semplici osservatori, ma diventano parte di un viaggio attraverso le ombre e le luci di terra amara. L'ansia di scoprire come le scelte di Abdul Qadir modelleranno il futuro della serie diventa un'esperienza condivisa, unendogli appassionati in un'attesa colma di speculazioni e teorie. Ogni episodio diventa un tassello di un mosaico più grande, in cui la maestria narrativa di terra amara continua a tenere tutti con il fiato sospeso, in attesa del prossimo colpo di scena. In questo scenario di sospetti, alleanze e tradimenti, terra amara continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso, dimostrando ancora una volta che in questo intricato gioco di potere nessuno è al sicuro e il destino di ciascuno è appeso a un filo. Ovviamente questa è stata la trama che avremmo voluto in terra amara, ma purtroppo non sarà così. Ti sarebbe piaciuta questa trama? Scrivilo nei commenti. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni. Grazie. Grazie.